vogliamo passare la parola del signore vogliamo prendere vangelo di giovanni capitolo 1 dal versetto 45 giovanni è facile da trovare tito ci metto un po in confusione signore se lo dato filippo trovò natanaele e gli disse abbiamo trovato colui del quale hanno scritto mosè nella legge e i profeti gesù da nazareth figlio di giuseppe natanaele gli disse può forse venire qualcosa di buono da nazareth filippo gli rispose vieni a vedere gesù vide natanaele che gli veniva incontro e disse di lui ecco un vero israelita in cui non c'è falsità natanaele gli chiese da che cosa mi conosci e gesù gli rispose prima che filippo ti chiamasse quando eri sotto il fico io ti ho visto natanaele gli rispose rabbi tu sei il figlio di dio tu sei il re di israele gesù disse perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico tu credi tu vedrai cose maggiore di queste poi gli disse in verità in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di dio salire e scendere sul figlio dell'uomo amen fin qui la parola di dio è un racconto breve ma in questa brevità in questo incontro vediamo un cambiamento vediamo un un ravvedimento un ravvedimento nello spetti nello specifico di giudizio intanto contestualizzando questo racconto noi qui in questo vangelo giovanni racconti il quarto giorno siamo al quarto giorno dove vediamo ancora gesù nel primo giorno si vede parliamo del versetto 15 giovanni il battista nel secondo giorno verso il versetto 29 vediamo giovanni il battista con gesù versetto 35 vediamo gesù di nuove giovanni il battista da questi versetti invece vediamo gesù che incomincia a creare comincia a cercare i soldati i suoi discepoli e c'è un incontro questo incontro è in un luogo è a betsaida che insieme ad altre città come capernaum e corazzine sono città dove il signore aveva fatto grandi opere avevano visto tastato la potenza di gesù la potenza di dio ma queste città non hanno aperto il loro cuore se andiamo a leggere il vangelo di luca su queste città su questi luoghi nonostante avessero veramente visto miracoli potenti non si sono ravveduti su questa città sto fermo o su questa città su betsaida pensate che talmente è caduta così come fu la profezia di gesù la distruzione che non sappiamo più dove sia dove è localizzata perché molte volte non apprezziamo e non riconosciamo quello che dio fa nella nostra vita quindi vediamo in questo racconto che c'è questa città una città dove è nato filippo andrea quindi la città natale anche di discepoli e vediamo che in questa città c'è questo racconto ci sono due incontri il primo incontro come abbiamo letto è tra filippo e natanaele il secondo incontro è tra gesù e natanaele nel primo incontro vediamo che si contrasta un po la gioia di chi ha conosciuto gesù quando noi conosciamo gesù soprattutto le anime nuove hanno un entusiasmo forte sono un fuoco sono i migliori pescatori di anime perché non li tieni divampano hanno questa gioia dimostrare che cosa ha fatto gesù nella loro vita e senti anche nella semplicità anche nella non completezza del messaggio no perché filippo non era molto completo no presenta gesù come il figlio di giuseppe doveva ancora capire chi era il padre di gesù letteralmente fisicamente spiritualmente però nella semplicità porta questa notizia abbiamo trovato il messia e questa gioia viene subito contrapposta viene quasi lottata e questo succede anche nelle nostre vite a volte facciamo un'esperienza con il signore a volte conosciamo il signore a volte il signore magari ci libera ci benedice portiamo questa gioia e a volte ci scontriamo contro un qualcosa che quasi quasi ci spegne quasi quasi cioè mamma mia mi aspettavo che il fuoco fosse alimentato no ma molte volte non è così filippo si presenta a natanaele natanaele usa un qualcosa quasi di dispregiativo usa il pregiudizio può avvenire qualcosa di buono dalla galilea è pesante è quasi come mettere un marchio di insufficienza per quel territorio in quel territorio non può avvenire nulla e natanaele apparentemente ha anche delle condizioni per poterlo dire che natanaele ha studiato la parola e sapeva che il messia doveva venire da betlemme dalla giudea quindi non può avvenire dalla galilea anche nella cultura che viveva probabilmente si aspettava che il messia non era il figlio di giuseppe il falegname ma un re un principe un comandante e molti pensavano che doveva essere liberato israele dai romani vuoi che muoviene il figlio del falegname della regione più sottovalutata di tutti la galilea a venire a fare il messia l'unto che sta di filippo questo è il pregiudizio pregiudizio che natanaele mette davanti alla gioia che filippo gli voleva trasmettere è la prima annotazione che dobbiamo prendere nella nostra vita che cos'è il pregiudizio perché il pregiudizio è veramente difficile da lottare voi pensate che dio dal suo santo spirito non solo per farci ravvedere dal peccato lo spirito santo nella nostra vita ci compunge di peccato giustizia e giudizio quindi è un qualcosa che solo dio può fare e su questa cosa siamo d'accordi non solo noi credenti ma anche nel mondo esterno si è pienamente convinti soprattutto nell'ambito anche della filosofia che il pregiudizio non può essere tolto pregiudizia la tua identità come fai a toglierla non puoi toglierla ma la bibbia ci risponde è necessario che tu nasca di nuovo la tua vecchia identità di peccatore è morta sei un uomo nuovo quindi è vero è difficile togliere il pregiudizio perché c'è la cultura sei un filtro hai preso tutto quello che ti hanno insegnato vivi in una società dove ormai non riusciamo nemmeno più a dialogare viviamo in una società dove deve prevalere l'opinione al di là della verità al di là di quello che che può essere il concetto di è giusto e sbagliato viviamo in questa società si è perso il principio fondamentale che veramente è la verità a noi interessa il nostro giudizio quello che ci hanno insegnato quella è la verità che voglio portare e natanele portava quella verità geno non può essere il messia e quasi quasi questo questo suo pregiudizio questo suo filtro poteva fargli perdere tutto quello che c'era davanti la sua vita però filippo risponde in un modo stupendo due parole le parole di filippo sono per la nostra vita un insegnamento l'avete anticipato nelle testimonianze no molte volte non dobbiamo parlare tanto convincere fare trattati teologici studi biblici vieni e vedi due parole vieni e vedi queste parole sono state delle parole che tuttora sono parole che vengono rimarcate ci sono quotidiani evangelistiche in francia ci sono chiese perché sono state due parole che nella storia di natanaele nella nostra vita ci insegnano una cosa molte volte bisogna fare vedere quello che dio ha fatto nella nostra vita piuttosto che metterci a discutere a dialogare a perderci in vani ragionamenti facciamo vedere quello che dio ha fatto nella nostra vita e filippo dice solo queste due parole vieni e vedi è un invito ovviamente natanaele poteva rifiutare poteva ancora rispondere sì ma a me non importa perché io so che non è così tu sei sbagliato tu ti stai illudendo tu mi ricordo un po la frase che una volta mi disse antonio quando si è convertito si è passato dalla brace alla padella quando il fratello gli parlava di gesù il pastore si trovava ancora nella tossicodipendenza diceva sì tu stai passando dalla padella alla brace e questo è un pregiudizio perché uno idealizza quella cosa con i propri pensieri con la propria cultura ma quando arriva il signore c'è veramente una nuova nascita ti cambia totalmente e questo processo è un processo che nella nostra vita avviene continuamente molte volte dobbiamo ravvederci io ringrazio dio perché nonostante il mio cuore a volte è duro non si stanca a farmi ravvedere di giudizio di giustizia di peccato e ci lavora col mio cuore a volte mi chiudo e no tutto e busso il signore io busso 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 e noi molte volte veramente dobbiamo essere grati al signore perché ha una pazienza che è inimmaginabile per la nostra vita e in questa in questo contesto natanele in un certo senso apre una breccia noi nel nostro cuore possiamo aprire diverse brecce diversi spazi li possiamo aprire per il signore e ci facciamo lavorare da dio o li possiamo aprire per il peccato in ogni caso quando si apre una breccia è buono che quella breccia sia messa sotto il sangue di gesù perché se non è una breccia che si apre per il signore è una breccia che si apre per il nemico e quando entra il nemico non si accontenterà solo della breccia ma piano piano prenderà tutta la fortezza ed è quello che invece dobbiamo far fare al signore a volte noi presentiamo gesù pensiamo di non aver fatto nulla come si è detto nelle testimonianze dice vabbè ma non so manco se la persona che di là mi può capire e non ci dimentichiamo che colui che compunge lo spirito santo noi portiamo la verità portiamo gesù il resto lo fa il signore e quella breccia che si aprirà avrà un frutto perché lo spirito santo sa quello che deve fare natanele apre questa piccola breccia e va verso gesù in un certo senso si sente incuriosito non è che è stato molto convinto è incuriosito perché la bibbia ci presenta che quando vede gesù e gesù gli fa un po un identikit del suo cuore ve lo voglio leggere gesù gli dice ecco un vero israelita in cui non c'è farsità vorremmo che il signore facesse questi identikit nel nostro cuore l'incontrare gesù gesù lo vede mentre gli va incontro e questa è la diagnosi che gesù fa un uomo in cui non c'è farsità però c'è un pregiudizio questo ci fa capire che al di là di quello che c'è nella nostra vita abbiamo tutti bisogno di gesù non c'è nessuna persona tanto giusta da non avere bisogno di gesù tutti abbiamo bisogno di gesù natanele non era giacobbe non era l'imbroglione ma comunque aveva necessità di gesù perché doveva capire chi aveva davanti chi poteva salvarlo e natanele si vede che ha un po da ridire da come risponde perché gli chiede un po gli fa una domanda un po un po strana che però sarebbe spontanea per noi no c'è una persona non ci conosce ci chiede ecco un uomo in cui non c'è farsità dice ma da che cosa mi conosci da che cosa l'hai detto che non che non c'è farsità in me quindi inizia una conversazione diversa se con filippo è stata una conversazione di demandare filippo l'ha mandata a gesù guardate bene i ruoli noi siamo chiamati a portare la gente a gesù poi è gesù che lavora i cuori è gesù che parla con quel cuore è lo spirito santo che va a vedere quello che deve fare quello che c'è da lavorare non siamo noi noi portiamo gesù è lo spirito santo che nei suoi tempi nei suoi modi fa la sua opera e la porta a compimento è una conversazione diversa più intima perché da questo momento in poi gesù gli risponde in un modo che ha un significato spirituale importantissimo perché se non analizziamo la risposta di gesù sembra quasi strano come filippo e come natanaele da che non credeva gesù al che riconosce gesù come re come figlio di dio che è successo in questa conversazione che cosa ha capito natanaele in questa conversazione cioè ha conosciuto gesù meglio di filippo perché non l'ha chiamato più il figlio di giuseppe non è più il figlio del falegname si è il messia mosene hanno scritto il profeta ma il figlio di giuseppe no l'ha identificato subito come il figlio di dio il re di israele e l'ha chiamato rabbì che una massima espressione per dire maestro ma che è successo in questa conversazione che cosa ha percepito fratelli a me questo verso mi ha colpito tanto che sono andato anche a studiare i termini specifici greci per non perdere nulla che volevo capirlo questo che cosa è successo ha detto cioè gesù dice apparentemente una cosa che sì mi hai visto sotto il fico magari ero nascosto magari nessuno lo sapeva però apparentemente non sembra che gli abbia detto chissà che o no c'è un significato che va al di là di questa frase secondo voi o no ed è incredibile che andando a vedere i verbi che sono usati in questa espressione dietro c'è veramente tutta la potenza che aveva gesù e che ha il signore ancora oggi la conversazione che c'è tra gesù e natanele quando gesù risponde prima che filippo ti chiamasse quando eri sotto il fico io ti ho visto ci sono due termini importanti non vado nelle parole greche ma vi faccio un riassunto perché non voglio stancarvi nella prima parte natanele dice da che cosa mi conosci e uso un termine miosis tanto è semplice che vuol dire una conoscenza umana cioè da che cosa lo dici da quanto tempo tu dici che mi conosci perché un qualcosa che lo conosci per ho sentito dire ho studiato ho letto gesù usa un altro termine usa un termine dove non è la conoscenza che intendiamo scientifica letteraria testuale no 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 è una conoscenza basata sulla relazione è il termine che usa gesù è un termine molto forte questo ve lo voglio dire perché secondo me rende l'idea usa un termine che è eidon orao che viene definito anche come emblepo che cosa vuol dire fratelli vuol dire che en dentro blebo guardato io ti ho guardato dentro prima ancora che filippo ti chiamasse io ti ho guardato dentro io ho una relazione con te io so quello che tu hai fatto perché io ti guardo dentro e anche l'espressione sotto il fico probabilmente natanele si trovava lì a meditare a pregare io non lo so mi piace pensare che stesse leggendo la bibbia e che stesse leggendo anche un verso in particolare della bibbia perché per come gli risponde dopo il signore secondo me c'è stata una relazione in quello che lui si è sentito un po ma come fa a sapere quello che io stavo pregando come fa a sapere quello che io stavo meditando ma questo è un mio pensiero ma quello che dice la bibbia è che gesù si presenta come colui che guarda da dentro e l'espressione di essere sotto il fico in ebraico ha un significato molto importante salomone ce lo ripete varie volte di essere protetti sotto la propria vite e sotto il proprio fico è un'espressione di custodia un'espressione di dimora dimorare a casa dimorare in famiglia è quello che mi ha colpito molto collegando un po i significati ebraici un po il termine greco è che come se il signore stesse dicendo prima che filippo ti venisse a chiamare io ti ho guardato nella mia dimora io ti ho visto io so io penso che natanaele presentato da gesù come un uomo in cui non c'è falsità in quel periodo storico non stesse vivendo bene noi sappiamo in parte quello che facevano il sinedrio no hanno accusato ingiustamente gesù l'hanno uccise ingiustamente ma chissà quante cose natanaele viveva quante scorrettezze natanaele doveva vedere con i suoi occhi e chissà se proprio natanaele non pregava per avere il messia perché un uomo giusto nell'ingiustizia vive male un uomo giusto nelle cose che sono fatte contro dio vive male e gesù si presenta come colui che guarda dentro la tua sofferenza i tuoi pensieri le tue preoccupazioni i tuoi limiti i tuoi pregiudizi io li ho guardati dentro possiamo ingannare chi vogliamo possiamo ingannare i nostri fratelli possiamo ingannare al lavoro possiamo ingannare qualsiasi persona possiamo venderci in qualsiasi modo ma dio ci guarda da dentro non si scappa è una conversazione così forte dove il pregiudizio di natanaele cade perché ha capito che davanti a lui non c'è un uomo questo non è il figlio del falegname sì falegname l'ha riconosciuto giuseppe come legittimo ma qui c'è qualcosa di più davanti a me perché questo mi conosce sa chi sono mi ricordo un po la storia della donna nel pozzo mi ha raccontato tutto quello che io ho fatto mi ha visto da dentro quello che c'è nel mio cuore natanaele è stato scosso dalla parola di gesù ed è per questo che in un semplice verso in poche parole è cambiato da così a così può avvenire qualcosa di buono da galilea sì il figlio di dio il re di israele è magnifico quello che il signore fa nella nostra vita natanele si è quasi stupito anzi si è stupito pensando che avesse avuto la massima rivelazione e invece il signore gli fa capire una cosa ti meravigli per questo sappi che ci sono cose maggiori non fermiamoci sola la salvezza gloria a dio per la salvezza gloria a dio che dio ha dato la sua vita per salvare noi che siamo immeritevoli e mancanti ogni uomo è privo della grazia di dio se non fosse per il sangue di gesù noi saremo veramente immeritevoli e lui rimane fedele con noi in ogni circostanza perché non può rinnegare il suo nome cioè gesù si è vincolato col suo nome e non è un uomo umano non è un uomo di un angelo è il nome di dio nome al di sopra di ogni altro nome è il miglior patto che potevamo fare il patto che facciamo con gesù è il miglior patto che possiamo fare e natanele già questo gli bastava io ho visto il signore ho visto tutto a me ma c'è di più perché c'era una chiamata per natanele io vi posso dire che la salvezza è la cosa più bella che dio ci possa fare ma servire dio e seguirlo è bello altrettanto perché lo conosci di più perché lo vivi quando gesù gli dice ti meravigli perché ti accontenti quasi di queste cose cioè ti fermi qui attenzione ci sono cose maggiori e inizia qui un altro verso un verso che non si parla più al singolare fate attenzione che nel verso 51 incomincia a parlare al al plurale quando dice in verità in verità innanzitutto quando gesù parla in verità in verità è una promessa quindi sta parlando in plurale questa promessa è anche per noi se poco prima parla in singolare a natanaele fateci attenzione poco dopo si passa nel plurale quindi è una promessa aperta e inizia con le parole in verità in verità che letteralmente vuol dire amen amen così sia così sia una promessa che è aperta anche per noi perché gesù non è che è cambiato non è che adesso è fermo lui è il mediatore e il sommo sacerdote in eterno e il signore dice in verità in verità promessa che è aperta e gli dice che lui vedrà il cielo aperto e gli angeli di dio salire e scendere sul figlio dell'uomo questa questa promessa che fa gesù rimarca molte la visione che ebbe giacobbe per questo dicevo mi piace immaginare che natanele stesse leggendo questo verso quando giacobbe vide la scala tra il terra e il cielo e gli angeli che salivano e scendevano in questa promessa che gesù fa a natanele in verità in verità gesù si sta presento con si sta presentando come l'unico mediatore si sta presentando come l'unica persona che ha la piena rivelazione del padre gesù ha portato la piena rivelazione di dio ed è l'unico che può dire chi ha visto me ha visto il padre nessuno poteva dire questo e chi ci credeva questo allora aveva la salvezza perché riconosceva chi lui era e chi lo mandava gesù gli sta dicendo a natanele che il percorso con cristo è un percorso che va sempre di benedizione in benedizione gli angeli che salgono e scendono vi ricordo che gli angeli sono dei messaggeri noi entriamo all'interno del mondo spirituale di dio che è un mondo fatto di comunicazione gesù ci dà la possibilità tramite anche lo spirito santo di entrare in comunicazione con il padre riconosci gesù non ti accontentare di questo e inizia a comunicare perché qualsiasi cosa tu chiederai nel nome di gesù ti sarà dato qualsiasi cosa che domanderete vi sarà dato perché vi si è aperto il cielo credere in cristo gesù vi mette in una condizione di aprire il cielo lo vogliamo il cielo aperto nella nostra vita quante volte preghiamo apri il tuo cielo manda la tua pioggia la tua ruggiada credi in gesù perché gesù ci conosce da dentro gesù non si limita a dire hai sbagliato con me hai chiuso gesù prima ancora che ti chiama ti conosce non puoi stupire gesù né negativo né in positivo perché egli è onnisciente e quando sbagliamo se pensiamo che lo sbaglio non può essere perdonato stiamo commettendo peccato contro la croce perché come se la croce quel peccato non lo può cancellare è come se la croce fosse quasi insufficiente invece la croce è sufficiente per cancellare ogni peccato e quando gesù ha chiamato la nostra vita lui ci ha conosciuto lui sa chi siamo non pensiamo che a volte col nostro pregiudizio ci autoconvinciamo che abbiamo fatto un qualcosa che ormai è irreparabile no non puoi stupire il signore mi dispiace deludere quanti possono pensare questo non lo puoi stupire non lo puoi ingannare non lo puoi prendere in contropiede se uso un termine un po calcistico dio sa tutto e quando dio ci ha salvati ha già messo il suo santo spirito nella nostra vita perché ne abbiamo bisogno ogni giorno dobbiamo convincere la nostra vita di giudizio tanto più in questa società tanto più in questo mondo dove viviamo che si crea sempre l'intenzione nei secoli nei secoli di creare una finta unione il pregiudizio che si sta creando adesso che lo viviamo noi ma lo vivranno di più i nostri figli è quello di vedere una finta unione nell'apocalisse non ce lo nasconde la bibbia che chi prenderà il comando cercherà di unificare tutto moneta politica società dovremmo essere tutti collaudati tutti etichettati in uno stesso modo e avere un pregiudizio verso quelli che sono fuori da questi schemi e la cosa che mi colpisce è che proprio il termine chiesa ecclesia vuol dire chiamati fuori e sono questi chiamati fuori queste persone che non si fanno trasportare dal pregiudizio della società che saranno perseguitati sono proprio quelli che metteranno davanti il pensiero di dio e non quello dell'uomo che saranno perseguitati perché se tu non sei chiamato fuori non sei un problema è dai tempi della torre di babele che l'uomo si unisce con delle basi carnali facciamo una torre che arrivi al cielo carnalità nella storia ce lo racconta gli imperi la stessa moneta stessa poi sempre è stato sempre un continuo unificare con basi carnali e la bibbia ci avvisa anche di questo ma l'unico regno che durerà in eterno è quello che è unificato con le basi del sangue di gesù cristo i legami che abbiamo noi non sono legami di fisicità di parentela sono legami spirituali eterni noi vivremo nell'eternità come un unico popolo nella parola di dio non c'è etnia non c'è razza non c'è stato sociale andate a vedere la prima chiesa la chiesa di antiochia antiochia c'era una diversità pazzesca davanti a dio esiste una sola razza umana che ha creato e lo scopo di questa razza è adorare dio lontano da dio siamo persi dobbiamo vincere quello che si sta creando nel mondo il pregiudizio che si sta creando con il sangue di gesù con la presenza di gesù nella nostra vita riconoscendo che solo la parola di dio è eterna solo la parola di dio è verità noi viviamo in una società che vuole darci questa impronta il pregiudizio che tutto è lecito ma sì ma nel 2023 si può fare ma dai ma ancora tu ascolti questo libro ancora ascolti la bibbia ma davvero ancora leggi la bibbia ma adesso c'è la scienza sì però la scienza è imperfetta scusatemi se già parliamo di scienza medica io non so quante persone si accontentano di certi editti umani quante persone gli basta l'editto umano quando davanti a un medico ti dice fra tre mesi è finita basta ti basta questa conoscenza basta questa verità ho la filosofia che sanno di non sapere ma devono contrastare il sapere degli altri un continuo dubbio e tu vuoi prendere il comando contro la parola di dio tu che non sai mi fa perché tu sai io non so ma so che Gesù è verità e ti porto la verità di cristo viviamo in questa società perché attaccano la bibbia ci creano dei giudizi che quasi quasi dovremmo quasi vergognarci di dire quello che è scritto nella parola di dio ma che cosa mi stai portando tu che cosa stai dando a questo mondo la politica ma siamo sicuri che la politica è così limpida onesta fratelli noi senza la parola di dio in questo mondo ma dove dovremmo andare se non c'è giudizio del signore nella nostra vita ma che cosa vorremmo fare è per la grazia del signore che non che non siamo stati sterminati che non ci sterminiamo fra di noi che pregiudizi ci dovremmo acquisire dal mondo è per questo che Gesù ha fondato l'ecclesia i chiamati fuori lascia perdere le cose del mondo che non vuol dire non parlare con la gente del mondo perché noi dobbiamo convertirla ma non ti associare a quello non ti associare al pensiero che i pensieri cambiano negli anni ma la parola di dio è ferma noi non siamo chiamati a fare dei compromessi e mo diluisco un po la parola perché in questa società mi fa pure comodo no perché la parola è vita quando noi parliamo non parliamo di noi stessi il nostro giudizio non è un giudizio di luca se fosse un giudizio mio un giudizio di antonio un giudizio di giancarla sarebbe un giudizio quasi inutile noi parliamo del giudizio che ha dio per noi e per il mondo dei pensieri che dio ha per noi e la bibbia dice che dio ha pensieri di beni vogliamo essere come natanaele farci stupire dalla parola di dio e vogliamo anche a volte metterci in una posizione di ravvedimento di giudizio perché non è sbagliato ravvedersi anzi è la cosa più bella che possiamo fare vogliamo a volte metterci in discussione e dire signore io la pensavo così ma adesso tu mi hai fatto vedere che c'è di più vogliamo vivere questo cristianesimo perché per natanaele dal momento in cui ha abbandonato il suo pregiudizio quello che lui aveva studiato aveva imparato quello che lui viveva da lì dall'abbandonare quello è iniziato un percorso con cose migliore amen vogliamo andare in preghiera vogliamo